buonasera a tutte e a tutti stasera parleremo di assetto idrogeologico lo faremo con luca salti che è un esperto geologo veneto molto preparato nel campo della protezione della caduta di massi slavine frane in terra colate fluide eccetera eccetera tutto quello che si muove diciamo e come mai arciatea si occupa di idrogeologia beh fondamentalmente perché siamo un'associazione di razionalisti agnostici e dati che lottano per i diritti e per la laicità però in quanto razionalisti sosteniamo il pensiero scientifico e contribuiamo per quanto possibile alla divulgazione scientifica contro le spiegazioni magiche o religiose e o religiose per esempio l'enciclica laudato si contiene singole affermazioni condivisibili ma dichiara da subito che la natura è un dono di dio come il corpo la vita la sessualità e qualunque questione lo chiamano dono ma siccome se ne riservano diciamo così la gestione di fatto sarebbe un comodato d'uso con la supervisione della chiesa non lasciano a noi nessuna autodeterminazione su sulla vita sul tutto quello che che per loro è un dono noi da razionalisti riteniamo che l'ambiente e la natura debba essere gestito con lungimiranza con prevenzione cioè razionalmente senza sacralizzare la natura o personificare il pianeta la fisica ci con ci fornisce delle conoscenze che non possiamo tralasciare parlando di assetto del territorio la forza di gravità non è gestibile tutto tende alla minima energia l'erosione superficiale del pianeta è inarrestabile questo significa che tutto quello che è in alto tende a scendere in basso poi l'azione degli eventi meteorologici e la tettonica a zolle complicano abbastanza la questione il pianeta non è fermo non è morto è un è un entità vivente in continuo divenire in tutto questo non sempre si può intervenire per eliminare le cause degli degli avvenimenti delle frane degli scoscendimenti molte volte si possono solo minimizzarne gli effetti ma di tutto questo poi ci parlerà luca io volevo solo presentare il tutto e fare finta di avere una competenza in merito così parlare di idrogeologia implica parlare anche gli assetti politici e istituzionali noi sosteniamo il decentramento e la partecipazione ma ci sono casi e la gestione del territorio è uno di questi in cui lasciare tutto agli amministratori locali non è la scelta migliore per esempio per abbattere le costruzioni abusive l'autonomia differenziata per cui ogni regione fa da sé alimenta ulteriori disuguaglianze anche tra territori l'autonomia differenziata è una richiesta della lega che è giustificata dal principio di sussidiarietà che è un fondamento della dottrina sociale cattolica il principio di sussidiarietà articola si articola in sussidiarietà orizzontale che promuove la privatizzazione di scuola sanità servizi e in sussidiarietà verticali per cui le comunità locali saprebbero gestire meglio tutto e sempre noi invece riteniamo che difendere i diritti degli cittadini richiede anche un intervento pubblico e una pianificazione nazionale se no parliamo rischio che la mano destra non sa cosa fa quella sinistra i recenti fatti di ischia e quelli di poco di poco tempo fa nelle marche dimostrano come il nostro approccio verso i fenomeni naturali non sia adeguato per nostro intendo della specie umana sentiamo parlare spesso nei media di natura matrigna di montagna assassina di evento calamitoso imprevedibile beh non è così noi abbiamo un'idea diversa di tutto questo ma vogliamo capire confrontarci con un tecnico di chiara fama quale appunto luca salti il dottor luca salti e quindi io cederei a lui la parola per fare un discorso se diciamo della problematica e poi e poi sulla base di quello che lui dirà noi gli domanderemo le nostre gli domanderemo le cose che non abbiamo magari capito insomma tutto quello che ci interessa luca te la parola grazie allora buonasera a tutti quanti intanto mi scuso se sarà un po deficiente di parole o cose così ma sta combattendo un po con l'influenza oggi mi sa e quindi senza febbre però mal di testa raffreddore e grazie anche dell'invito perché è un argomento che per me è importante che ho vissuto da posso dire da piccolo perché ho sempre avuto passione per il territorio per questa materia e quindi già dal 98 ho iniziato a lavorare nell'ambito della difesa del suolo conoscendo bene il veneto poi anche ahimè per vari fenomeni disastrosi altre parti dell'italia questa sera vi farò un discorso veloce su un po quelle che sono le casistiche su quella che è un po la il rapporto uomo natura uomo terra e lasciando poi spazio a confronti che possono interessare anche altri argomenti quali la gestione amministrativa anche di quella ne ho viste abbastanza e quindi io inizierei subito con la condivisione ok ditemi se la vedete ecco adesso sì perfetto perfetto allora sì faccio un discorso veloce che soprattutto immagini in modo da far entrare un attimo nella nell'argomento e nelle quelle che sono un po le problematiche dividendo appunto la l'analisi in classificazione di quelle che sono frane con degli esempi e un veloce scorso di quelli che possono essere gli interventi l'aspetto della conoscenza quindi quello che è la scienza come dicevi tu mario che studia questa materia e il profondisce in termini conoscitivi e poi il discorso di convivenza con questo pianeta e la coscienza che siamo sicuramente in un ambiente che è dinamico la terra è viva e quindi ha le sue bellezze e ha i suoi eventi tristi e violenti a cui bisogna guardare con occhio molto attento il aspetta che adesso non so come si va avanti forse col mouse ecco il non entro nel merito delle classificazioni la bibliografia è assolutamente ampia la più grande classificazione l'ha fatta ancora vanus un centinaio di anni fa quindi sicuramente le frane sono state ben definite ben classificate ci sono frane praticamente frane in roccia con frane di scivolamenti di crolli frane di colate di detrito quando appunto dagli aioni partono queste forme di valanga di detrito che arriva molto spesso sulle infrastrutture e i centri abitati e frane in terra con colate di fango e scivolamenti appunto rotazionali. I crolli che come diceva Mario sono un po' quelli per cui sono più specializzato perché appunto sono quasi 25 anni che li ho studiati ho fatto il dottorato su questo eccetera i crolli sono sicuramente degli eventi più difficili da interpretare i più violenti i più pericolosi perché sono imprevedibili in termini di sviluppo perché possono anche avvenire in una bellissima giornata di sole così come con piogge intense sono molto veloci e sono imprevedibili in gestione di quella che può essere la direzione del movimento la velocità e tutto quanto quindi sono in assoluto le frane più pericolose e quando abbiamo ambienti montani con pareti di decine centinaia di metri di altezza la propensione a essere coinvolto è molto elevata appunto dire un quando un crollo si sviluppa che tempi può avere anche se vai in montagna vai con le corde vai a vedere una frattura e la vedi aperta come quella non è che riesci a stimare questo sasso viene giù domani viene giù tra un mese viene giù tra un anno dai una probabilità di accadimento ma non riesci a interpretarlo in termini di tempo in più come vi dicevo è quello più veloce quindi sono frane che possono muoversi 30 40 metri al secondo quindi non ti lasciano il tempo di scampo crolli si possono sviluppare da strutture rocciose molto particolari come queste anche per fenomeni di ribaltamento perché sono appunto strutture di diedri di rocce torioni che sono in equilibrio limite si dice tecnicamente che basta un sisma basta un cedimento solo strutturale perché col peso la gravità non dorme mai e si degradano e franano altre frane molto frequenti soprattutto nel bacini nostri montani ma soprattutto negli appennini sono frane di impostate in terra e quindi materiali incoerenti e questi possono essere appunto frane di scivolamento scivolamento scivolamenti rotazionali che si formano per la rottura in genere proprio scucchiaiata di di terreno che poi dà origine al al movimento e all'assestamento che sono proprio forme di eh di scivolamenti all'interno di piani di debolezza strutturale ci sono poi frane importanti di scivolamenti traslativi si chiamano lungo i piani di strato lungo di discontinuità delle rocce e questi sono eh gli scivolamenti in roccia che ahimè l'associa l'esempio più importante per la storia d'italia che è l'aion che è eh appunto eh l'evento più importante anche in termini di disastro umano e e sotto in rosso vedete l'ultimo che è appunto la frana di eh scheggia che aveva interessato la la flamigna interrompendola completamente e questo è di fatto uno scivolamento che si è impostato su dei determinati piani di discontinuità a frana appoggio verso la strada altre frane molto delicate in termini di vulnerabilità e di poca gestione perché veloci sono le colate di detrito che caratterizzano molto spesso gli ambienti idoromitici gli ambienti montani cioè quegli ambienti dove le ci sono le pareti rocciose di altezza importanti con tutti gli ioni sotto su questi eh determinate condizioni di piovosità di concentrazione di acqua portano eh alla formazione di questo colate che anche se ahimè sono molto veloci quindi iniziano a scendere con dieci venti metri al secondo e possono eh andare interessare le infrastrutture dei centri abitati non lasciando il tempo di gestire eventuali evacuazioni o di scappare quindi sono dopo i crolli sicuramente le frane più eh più pericolose e eh anche altrettanto pericolose sono le colate di terra soprattutto si chiamano eh gli soil slip e colate di terra e fango che sono appunto eh colate eh che si sviluppano in genere da ambienti sorgenti si chiamano e poi per eh eh formazione di colate discendono a valle anche qua con velocità molto eh molto importante in danno interessare come recentemente è avvenuto centri abitati e di ischia purtroppo e e vie di comunicazione perché negli appennini nel nelle nostre dolomiti ci sono moltissime situazioni di zone interessate da eh da questi movimenti che fai fatica a individuare come innesco e hanno velocità eh di propagazione importante ci sono proprio anche delle classi di velocità che appunto che permettono di definire eh i vari i vari fenomeni eh come vi dicevo i crolli e le colate di detrito stanno sicuramente quelli estremamente rapidi ci sono frane di terra più o di colate di magari di milioni di metri cubi ne abbiamo noi ne avete voi sugli appennini che hanno velocità molto più moderate e lente quindi da noi li definiscono i giganti buoni cioè ti dicono guarda che mi sto muovendo ti permettono di gestire quelli che sono i piani di eh di eventuali sgomberi e evacuazioni a differenza di altre frane molto più veloci il eh eh in questa scarrellata qui vi faccio vedere quelli gli ultimi rimpi che hanno eh interessato un po' il nord centro Italia anzi un po' in tutta l'Italia eh che un po' ho seguito eh per vari cantieri che hanno iniziato un po' a a minare la mia non minare però a mettere in gioco le mie conoscenze scientifiche nel senso che eh per le prime volte mi sono trovato ad affrontare delle cose eh che quasi difficilmente riesce a spiegare no? Una uno di questi esempi è sicuramente che ha devastato il nostro territorio è l'alluvione di Vaia dell'ottobre duemila e diciotto che ha interessato le Dolomiti Veneto ma anche il Trentino e i Friuli principalmente però il cuore è stato nell'Alto Gordino quindi i comuni eh di di da Alleghe, il Rocapetore, l'Ivina Longo e quindi tutti quei comuni a Gordini poi si è spropagato dappertutto. È stato un evento dove da in due o tre giorni ci sono stati più di settecento millimetri di pioggia che alla metà di un anno quindi molto violenta ma combinata al ehm venti eh assolutamente mai visti in territori come i nostri che sono che si propagavano con velocità di cento metri al secondo cioè cose sì scusate duecento chilometri e fisicamente il territorio è stato devastato dal punto di vista idrogeologico, idraulico e forestale perché sono stati distrutti dodici mila ettari di bosco cancellati otto virgola sei milioni di metri cubi di legname e questo ha portato al disequilibrio che ancora oggi si vede del territorio montano. C'è stata una forte risposta territoriale e eh di gestione degli enti eh preposti perché subito eh secondo me questo è proprio un aspetto molto importante eh subito la regione ha sviluppato un una deroga no? Eh in accordo con il commissario della protezione civile nazionale di eh di tutte quelle che sono le normative eh in ambito ambientale idraulico gestionale terre rocce da scavo quindi ha fatto una sì una delibera che è la cinque cinque otto di deroga e ha per questa cosa ha permesso di partire con gli interventi non dico il giorno dopo ma dopo niente e allo stato attuale sul territorio sono stati investiti eh milioni di euro di interventi che si vedono quindi dopo praticamente quattro anni noi eh riusciamo a percepire l'azione eh mitigatoria che è stata immediata e il il eh i siti come questi sono alcuni esempi vedete bene questi pendi immensi completamente distrutti soggetti molto spesso al pericolo valanghe perché in ambienti di alta quota con esposizioni a valanghe per strade per casa per eccetera quindi sono state fatte eh eh decine e decine e decine di opere eh innanzitutto invece i siti sistemati e poi eh ce ne saranno sicuramente altri da 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 andare a sistemare però la gestione sicuramente amministrativa che è stata eccellente in quanto si è visto il risultato sul territorio in tempo molto breve che è cosa non più semplice se dopo volete parlare di amministrazioni ci sono e quindi gli interventi eh sono eh appunto eh si sono dislocati su tutto il territorio Veneto, Trentino, Fiulano con eh con tempi molto rapidi. Vaia da noi ha eh provocato e questo lo veramente l'ho potuto l'ho potuto accertare e e ogni giorno lo accerto lo ha ha provocato a un disequilibrio di quello che è l'assetto eh strutturale idrogeologico dei nostri versanti dei nostri pendii. Io ho visto cose che dopo vaia eh sono andate a destabilizzarsi in posti dove nessuno avrebbe mai detto che ci sarebbe potuta essere una frana o che si sarebbe potuto avere una condizione di eh di instabilità. Uno di quelli più clattanti proprio è questa località Skukaz che si trova in Alpago è un bacino qui è molto bello sopra il lago di Santa Croce alle porte di Vittorio Veneto e qui un colle che sovrastava eh il paese appunto di Skukaz che vedete giù nella foto bassa. Dopo vaia ha iniziato a disgregarsi cioè io non ho mai visto una cosa così eh avevi la percezione giorno dopo giorno perché andavamo su tutti i giorni che si stava sciogliendo quindi si era rotto quell'equilibrio che eh proprio come da immaginarsi particella per particella dentro questa montagna è andato a eh a disgregarlo come se fosse un'iniezione di una piccola bomba atomica che ha iniziato a a destabilitarla e questo mi ha segnato anche tanto professionalmente perché eh fisicamente ho avuto la percezione in un posto dove uno non dice va con le case è un posto tranquillo male che vada a vien giù qualche sassolino lì è iniziata a venire giù la montagna intera che storicamente non era mai successo e si scioglieva si si degradava proprio a vista d'occhio quasi no? E qui è stato fatto appunto un alleggerimento di tutto il collo anche con l'utilizzo dell'esplosivo con eh Danilo Coppe che il mio caro amico è di l'esplosivista del Ponte Morandi purtroppo. e l'alleggerimento che l'esplosivo non ha demolito tutto il versante ma di sgregarlo ammasso per poi pulirlo con i ragni e i mezzi meccanici. Altro evento che mi ha profondamente segnato sicuramente quello molto più recente di eh delle Marche dell'Umbria dove eh sono stato coinvolto sia a a Cantiano lato Marche sia a Scheggia lato Ungia per quelle due frane un po' più grosse che hanno interessato alla Flaminia. E anche qui eh è stato sconvolgente eh sicuramente vedere come in un in un niente in termini di tempo si sia come se si fosse aperto un buco nel cielo forse è venuto giù eh forse è venuto giù il finimondo. Parlando con la gente lì del posto mi ha fatto impressione mi raccontavano che vedevano questo cielo nero e una ragnatela di fulmini che non toccavano terra che però si eh ramificavano come se fosse proprio l'apocalisse che si è dimostrata con quattrocento millimetri di pioggia in sette ore quindi una cosa allucinante fuori da tutti i tempi di ritorno che uno usa per fare i calcoli idraulici eh dei corsi d'acqua e e delle fognature e e chiaramente ha sviluppato eh eh quella quella scura di tristezza e di dolore che conosciamo bene tutti insomma purtroppo con anche troppi morti e il il la Cantiano appunto una delle più grosse frane è stata una collata di detrito che aveva eh interessato alla Flaminia di detrito quindi tutto di ghaia materiale gorsolano che è discesa dai costoni eh sopra appunto la galleria all'uscita proprio di Cantiano e e ha seppellito la strada per fortuna senza coinvolgere auto e mezzi di che passavano in quel momento e nell'altra eh sicuramente la frana di scheggia che anche qui eh si è sviluppato appunto questo fenomeno quasi impensabile in termini di di dimensioni di sviluppo e e di eh di pericolosità perché è una frana importante con eh qualche migliaio di metri cubi che ha completamente occluso occluso la strada la frana è stata studiata e tuttora monitorata perché ha dei sistemi di trazione di fratturazione monte che appunto danno il segnale che il versante si è svuotato dal piede però dietro bisogna sicuramente fare qualcosa per per consolidarlo e tenerlo o scusate che aspetta eh che mi è altro evento mh impensabile sicuramente devastante è stato quello della marmolada che è un altro segnale di eh che c'è qualcosa che sta cambiando e che ha coinvolto eh il ghiacciaio destabilizzando in modo importante chiaramente in un momento caldo sino per agosto causando quell'ondata di che abbiamo tutti visto purtroppo e anche qui con troppi morti che eh involutamente si trovavano e sfortunatamente su quel tragitto della colata di fango che si è sviluppata. Ischia l'ultimo esempio eh anche qui una cosa tra virgolette mai vista in termini di entità di dimensioni di violenza di di vittime perché eh anche qui ci si sono sviluppati cinquanta millimetri eh di pioggia eh oraria cioè cose che assolutamente eh cinquanta millimetri gli piove in un giorno concentrati in un'ora vuol dire che anche qui il cielo si è aperto è sceso giù è sceso giù una di quelle secchiate che ha innescato appunto tutte queste forme di scivolamenti di frane e poi di colate che sono arrivate a casa micciola e eh appunto queste sono delle scarrellate veloci e vado veloce poi dopo se volete ci torniamo per capire come e quali possono essere appunto le casistiche come eh negli ultimi anni ci sia questa percezione di frequenza in aumento di eventi sempre più eh più importanti e più eh più devastanti. Interventi sulle frane qua Mario puoi parlare tu se vuoi però possono essere eh un po' di tutti i tipi dal movimentazioni terra alla riporfigliatura alla gestione dell'acqua drenaggi e opere di difesa con eh con tomi in terra con briglie nel caso di idraulico con colate e lungo i corsi d'acqua opere di consolidamenti di pareti rocciosi sopra scusate che qua avanti da solo sopra strade centri abitati questa era una scuola e ehm molto spesso opere che vengono fatte in ambienti difficili in cui occorre utilizzare mezzi che non hai alternativa quali elicotteri quali ragni che sono quei mezzi meccanici quelle pale eh che si arrampicano nel vero senso della parola su sui pendii e e ho opere speciali appunto come micropali eh tiranti ancoraggi di vario tipo che vanno a gestire quelle che sono le spinte eh naturali del terreno quindi il il l'aspetto appunto del mondo del dissesto idrogeologico eh è basato in una conoscenza che come dicevamo prima di iniziare è una conoscenza da parte di di quelli che sono gli scienziati che lo fanno che che sono prevalentemente i geologi poi si sono sviluppati tutti i rami di ingegneria però al geologo che studia appunto eh la terra e i suoi effetti le sue dinamiche la conoscenza che è basata su eh sicuramente su eh eh su quelli che sono eh la frequentazione del territorio la storicità del territorio ad esempio io eh cerco sempre di andare a a non dico intervistare sembra una parola banale però a parlare con le persone del posto che ti danno sempre quelle indicazioni sull'acqua la sorgente qui c'era la sorgente non c'era più il sasso è venuto giù lì e qui non è mai venuto giù niente però ti danno già delle indicazioni eh di di vissuto del territorio che sono fondamentali poi ci sono aspetti strumentati sì aspetti eh strumentazioni di eh appunto per ampliare quello che è il quadro conoscitivo delle eh di questi dissesti quindi da quelle più classiche a quelle più sofisticate che ormai sono un po' in dotazione di tutte le amministrazioni di tutti i professionisti come eh dai droni e gps di tutti i tipi ai laser scanner che ti battono eh le nuvole di punti e ti fanno modelli in tre dimensioni dei pendi e del e dei versanti strumentazioni eh di eh manovre in fune e mani anche quando sai più di me con il discorso che per me e penso che così sia per tutti è fondamentale sempre andare a toccare con mano quello che è il problema no quindi tu hai eh quella che è la tua condizione di eh di sesto di frana appena venuta se vuoi capire veramente cosa succede eh devi andare lì e toccarlo con mano devi crearti una sensazione no del di quello che è il territorio del dell'evento che è avvenuto poi lo modelli con gli strumenti con le analisi con eh analisi stabilità però devi cercare di sentirlo come se fosse come se fosse tuo io su questo ho avuto un grande maestro perché ho avuto Semenza il professor Semenza che è Edoardo il figlio del progettista del Vaionte e lui aveva riuscito a trasmettermi sicuramente la capacità di di vedere quasi in 3D no quello che andavi a a toccare appunto con mano e per farlo però tante volte devi utilizzare tecniche anche abbastanza estreme le integri con tecniche eh dinamiche da elicottero da droni da altri voli ma devi sempre andare a toccare con mano il geologo per ampliare il suo quadro di conoscenza utilizza altre strumentazioni quali i sondaggi che vuol dire fare delle carote e vedere fisicamente proprio il terreno sotto com'è anche se puntuale perché è un un tubo che scende quindi è puntuale utilizza da cui appunto ricava quella che sono un po' i raggi no della stratigrafia del terreno che hai sotto i piedi per appunto andare a modellare poi la geotecnica e le opere utilizza strumenti di monitoraggio di quelle che sono le frane con questi si chiamano inclinometri che sono sensori molto sensibili che calati in un tubo prefissato nel terreno se questo tubo si sposta percepiscono al millimetro la lo spostamento e la profondità quindi ti danno proprio la deformazione i tiri fuori dei grafici ti danno la deformazione dei piani di rottura delle entità delle direzioni di spostamento di una frana ci sono eh analisi delle circolazioni di acqua perché l'acqua è determinante su quasi sempre in un dissesto quindi eh ti danno il quadro conoscitivo idrogeologico per poi capire quelle che sono le pressioni neutre nel terreno quelle che sono le pressioni di spinta come cambia l'acqua o come è cambiata e strumentazioni indirette come la geofisica che ti dà in base la geolettrica o la sismica ti può interpretare il modello eh del sud del sud del strato o del del terreno con eh con tecnologie che sono ormai sempre più avanzate sempre più raffinate quindi eh come un medico ti fai i raggi x ti fa la tac ti fa la risonanza il geologo negli anni ha sviluppato eh tutti questi approcci conoscitivi che gli danno un supporto in una materia che assolutamente non è perfetta e che è quindi eh che ha bisogno di eh di questi dati quindi in questi cento duecento anni di scienza della geologia sicuramente eh 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 nello scenario nazionale si è creato mh un quadro conoscitivo importante cioè eh è ben noto insomma dove eh ci sono situazioni di criticità che gestisce eh questi questi sistemi diciamo informativi di di dati sono sempre enti predisposti che sono l'ISPRA che è tutto il gruppo del consigli nazionale dei geologi del CNR dell'università quindi negli anni sicuramente si è creato un forte quadro conoscitivo e in Italia esiste un progetto che è l'IFI che era partito eh ancora più di vent'anni fa che è l'inventario dei fenomeni franosi cioè è un censimento questo è il sito se voi cercate i frane entrate nel sito e avete la mappatura delle frane che eh caratterizzano appunto il territorio in Italia per adesso ce ne sono censite circa 620.000 io ho seguito ho gestito con un database diciamo no per le frane del del bellunese anzi non ho detto dall'inizio sono di Belluno eh Dolomiti e eh da quelle otto novemila frane diciamo ogni anno eh ci sono da di centocinquanta e duecento e venti nuovi di di sesto vai ad esempio quell'evento triste che ha caratterizzato le nostre ballate nel 2018 ne ha sviluppato più meno quattrocento in tre giorni di nuove frane e e e quindi questi archivi ci sono andrebbero mantenuti in modo vivo e costantemente e fisicamente eh ti danno una mappatura di quello che è lo scenario italiano quindi eh il numero di quelli che sono i dissesti ti danno un indice di 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 franosità dei territori e eh fanno vedere subito quali eh sono sicuramente le aree più eh più esposte no quindi in genere le aree montane perché un fenomeno di instabilità ce l'hai quando hai un pendio quindi eh quando hai eh situazioni eh legate alla gravità e all'acqua che ci che ci circola sopra e e il il in termini di presenza umana il io qua vedo un filo verde ma ce lo vedete anche voi? sì sì lo vediamo anche noi non so qual è non è un capello no in termini di pericolosità nel senso di esposizione di uomini il territorio è stato appunto mappato eh come dopo vedremo in classi di pericolosità con il famoso piano di assetto idrogeologico e qui eh si vede come in Italia eh nelle zone di esposizione che vanno dal P4 P3 P2 P1 il più gravoso il P4 il P1 il più il più il più leggero ma sempre esposizione a rischio a pericolosità si hanno eh all'incirca 5 milioni di persone che vivono in zone eh di criticità quindi numeri sicuramente numeri sicuramente importanti ma dettati dal fatto che se noi siamo in un territorio montano o vai a vivere in pianura o rimani in montagna ma sei chiaramente esposto a a certe condizioni che la montagna ti detta e il il come vi dicevo appunto il eh il esistono delle mappature ben chiare che vanno a identificare quelle che sono proprio le zone più eh più critiche come eh presenza di eh presenza di popolazione presenza di rischio presenza di purtroppo di morti per frane eh nel territorio nazionale. Nell'Umbria ad esempio il eh l'IFI il il censimento nazionale delle frane identifica su quasi trentacinque mila frane. Il veneto una quasi dici mila. Quindi eh eh sicuramente eh eh numeri molto 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 importanti che vedete costellano il il territorio montano perché si tratta sempre di montagna e così come c'è una gestione conoscitiva dei dissesti c'è anche una gestione eh pianificatoria che parte da eh la 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 dai livelli diciamo amministrativi più alti che sono eh ministeriali nel senso che ci sono negli vari territori le autorità di bacino che hanno formulato in eh con partecipazione con le regioni i vari e anche con le province i comuni però principalmente con le regioni hanno formulato i vari piani di assetto idrogeologico. Il PAI cosiddetto è derivato dalla famosa la legge Sarno la legge 267 del del 98 che aveva eh appunto iniziato a dettare e quindi stiamo parlando del 98 non di trecento anni fa quindi ieri aveva iniziato a dettare la necessità di interfacciarsi con il territorio con conoscenza nel senso che eh per la prima volta si è cercato di ragionare in termini di prevenzione cosa che non era mai stata fatta quindi anche questo termine prevenzione è abbastanza fresco perché appunto eh derivato da una cultura di una ventina di anni eh solo prevenzione che si basa prima di tutto su queste mappature ne avete visto tante di eh pericolosità da frana da alluvioni ci sono tutte e due io vi ho riportato uno da frana dove eh vengono classificate le aree a pericolosità moderata media elevata e molto elevata e queste vengono normate perché il PAI va con le norme di attuazione sue a definire cosa puoi fare e non puoi fare all'interno di ciascun'area ho un edificio in P4 io posso fare delle piccole eh ristrutturazioni dei piccoli adeguamenti anche strutturali igienico sanitarie ma non posso demolirlo perché una volta che è demolito non lo ricostruisci perché è una zona molto elevata. Quindi eh sicuramente hai un eh un primo passo di gestione nel eh nazionale di quello che è eh il quadro di eh di pericolosità e di pianificazione perché in queste zone la pianificazione è è bloccata. e eh fisicamente questi piani poi sono stati assorbiti da eh tutti quelli che sono gli elementi pianificatori di più dettaglio che sono i piani regolatori, i PAT, i PUC, quindi tutti i quegli sviluppi di gestione urbanistica locale legata ai comuni. io quando faccio un un piano urbanistico per un comune acquisisco questi dati, lo integro con rilievi di dettaglio, maggiori conoscenze, maggiori dati più aggiornati e viene fuori quella che è la mappatura della fragilità del territorio e che ti che ti dice appunto terreno idoneo, idoneo, condizione o non idoneo. quindi eh diciamo gli strumenti di pianificazione stanno iniziando sempre di più ad essere ad essere presenti nella gestione preventiva che è questa parola molto importante e eh vado a chiudere su quello che appunto un po' il rapporto di eh di noi noi poveri uomini che eh nell'ambito appunto di una visione eh legate appunto alla terra abbiamo un effetto diciamo di scala infinitesimamente diverso mi spiego noi dobbiamo guadagnizzare a guadagnizzare sarebbe stato naturale farlo da prima però siamo in un contesto della terra che ha un effetto scala sia dello spazio che del tempo mostruamente diverso da quello che eh quelle che sono le nostre dimensioni e quello che è il nostro tempo. Noi eh questo è un disegno che avevo fatto io e che ho tatuato sul braccio che eh ti parla del di quello che è un po' lo sviluppo del della vita che vuol dire il tempo. Cioè noi la nostra vita di settant'anni non è niente. E lo sviluppo di di quello che è il l'inserimento di noi uomini in questa terra che per le energie per le dinamiche per eh la grandezza che ha è infiniti infinitamente più grande più eh quindi l'effetto scala è assolutamente è assolutamente fondamentale. ma noi nel nostro piccolo dobbiamo iniziare a guardare eh e oppure riguardare un po' il territorio che forse i nostri antenati i nostri nonni forse lo facevano di più. Lo dobbiamo iniziare a riguardare con un occhiale diverso perché anche un po' dalle mie esperienze eh quando io vado a fare dei rilievi a frequentare appunto il territorio a valut a portare delle valutazioni eccetera cammino in porto il mio GPS vado a fare i miei punti con i segnali che il territorio mi dice ma se io cammino nel bosco scusate se io cammino nel bosco e vedo un blocco di questo tipo questo blocco non è venuto perché è piovuto dal cielo o perché lo hanno portato gli ignomi questo blocco è venuto perché in un tempo X è partito da le pareti rocciose che magari sono distante i due chilometri e uguale se io vado a camminare e farmi la mia bella passeggiatina su queste piane alluvionali no che eh coprono le nostre valli queste piane alluvionali si chiamano appunto alluvionali perché si sono formate per eventi che nel loro storia sicuramente sono stati molto ma molto più importanti più critici di quelli che noi abbiamo potuto vivere fino adesso perché sicuramente eh apporti di questo materiale la loro distruzione è legata ad eventi probabilmente quando eh noi eravamo con le pelli di 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 camoscio a coprirsi il bacino eventi che eh sicuramente hanno avuto delle dinamiche delle violenze inaudite le conoidi di detrito ma scusate salta da solo le conoidi di detrito le famose i famori le famose conoidi a ventaglio no? sono conoidi che si formano per svuotamenti delle valli in roccia in genere monte e al di fuori di queste valli si apre il ventaglio che va a depositare il il materiale a giugno nella zona del centro Cadore Comelico in una notte sono venuti giù i soliti 50 70 mm di pioggia e si sono sviluppate delle colate che hanno di detrito come quella che vedete di qua che hanno coperto delle vecchie baite che erano probabilmente di 1800 1700 quindi queste baite erano state costruite i nostri nonni bisnonni probabilmente non erano mai state toccate da nulla però erano su una conoide e quella conoide si è formata per eventi di questo tipo e sicuramente molto più violenti di quelli che noi abbiamo potuto vedere questo non è per mettere paura però è per capire che se siamo in un territorio e lo leggiamo in un certo modo sappiamo cosa è successo e sappiamo coscienza e conoscenza come apporci verso questo territorio chiudo con questa che è un po' a racchiudere tutto la terra è sempre stata modellata da eventi che nel tempo si sono presentati in modo estremamente violento le alluvioni, le farade, i cataclismi che convolgono sia la superficie che il cielo sono stati, sono e sempre saranno degli abili e pazienti scultori che hanno dato e daranno forma alle nostre montagne e valli stavo imparando a conoscerli solamente negli ultimi 100-200 anni un tempo troppo breve rispetto appunto al tempo che li ha governati nella storia geologica ultimamente gli eventi sempre più aggressivi portano alla rottura dei sottili equilibri dei pendii e dei corsi d'acqua e questo vi garantisco l'ho visto con Vaia perché io dopo Vaia ho decine e decine e decine di casi di condizioni cambiate quindi rotture di questi equilibri che diventano di giorno in giorno più fragili anche per l'incuria, la poca manutenzione e l'aggressività edilizia leggendo i segni del territorio però abbiamo la capacità e il dovere di capire le energie e le dinamiche che hanno dato forma alle nostre montagne e alle nostre valli e siamo in grado di capire l'esposizione a determinati rischi questi non sono sempre gestibili e prevedibili ma se vogliamo continuare a vivere questo pianeta in ambienti belli ma a volte ostili dobbiamo imparare a convivere con questi eventi con assoluto rispetto, conoscenza e appunto coscienza sapendo sempre che siamo piccoli ospiti e una scintilla di passaggio e quindi Luca ti ringrazio per essere proprio mi permetto di fare una piccola correzione se tu l'accetti il rispetto è un qualche cosa che può essere interpretato in tante maniere quindi forse direi più un comportamento razionale noi sappiamo che questi eventi ci sono, ci sono sempre stati e sempre ci saranno non abbiamo la possibilità di prevederli con il dovuto anticipo però dovremmo anche capire se in determinate aree riusciamo a fare delle opere che sono sufficienti per garantire un adeguato livello di sicurezza alle infrastrutture che andremo a costruire oppure se in quelle determinate aree queste infrastrutture non hanno senso di essere forse noi abbiamo spesso, per noi intendo razza umana la presunzione di essere padroni della terra possiamo gestirla e plasmarla come vogliamo noi ma non è così perché per quante opere noi possiamo fare guardando insomma i movimenti frenosi che abbiamo visto prima che non sono neanche i più grossi a livello mondiale beh insomma ci rendiamo conto che le opere che facciamo sono poca cosa questo viene anche complicato dall'incremento della popolazione dagli interessi che ci stanno in determinate aree non voglio puntare il dito contro nessuno e in particolar modo contro la popolazione di Ischia però è abbastanza evidente che lì c'è un impatto, una antropizzazione talmente spinta che obiettivamente è praticamente impossibile garantire una sicurezza per tutti quanti là se è vero poi che su 60.000 abitazioni che ci sono ci sono anche circa 30.000 con 28.000 mi sembra richieste di condono beh questa la dice lunga insomma sull'approccio della cosa e come dicevamo è forse molto pericoloso lasciare alle amministrazioni locali la gestione completa del territorio perché è vero che lo conoscono ma è anche vero che gli interessi in gioco sono tali che molte volte possono essere bypassati nella mia esperienza lavorativa mi è successo di vedere a 20 miglia facciamo dei lavori per delle frane che c'erano state c'era una relazione di un tuo collega abbastanza scroveduto evidentemente che aveva per far sì che una fabbrica fosse riaperta aveva garantito che lì non ci fossero nessun rischio in realtà si andavi nella fabbrica a vedere dei buchi sul tetto della fabbrica provocati dai massi che erano scesi che erano di ordine metrico insomma quindi serve assolutamente un atteggiamento intelligente un atteggiamento razionale appunto nella gestione del territorio quindi niente volevo sapere cosa ne pensi di questo innanzitutto sulle opere si apre un mondo nel senso che le opere prima di tutto devono essere identificate come elementi mitigatori perché sappiamo bene che l'annullamento del rischio non esiste e qua si apre una parentesi enorme in termini giuridici e anche ai medi di casi di di legali che sono finiti male perché spesso viene interpretato come gestione del lente del territorio mettendolo in assoluta sicurezza che non è possibile le opere poi vengono fatte vengono fatte e devono essere mantenute quindi questo è un altro aspetto importante che molto spesso decade viene dimenticato perché ero proprio a Torino l'altra settimana dove si parlava di manutenzione delle barriere no c'è la volontà da parte di tutti gli enti gestori strade ferrovi scusami Luca siccome io e te sappiamo di cosa tu stai parlando ma forse gli altri no quando parli di barriere intendi barriere paramassi barriere paramassi barriere per dire un'opera come altre insomma no quindi quando tu la fai dopo l'opera va controllata gestita manutenzionata che sia idraulica che sia di barriere paramassi che siano tiranti quello che è e quindi questo non sempre viene fatto nell'ambito di quella che appunto invece la gestione edilizia territoriale urbanistica come vi ho detto l'approccio alla prevenzione la prevenzione è un termine molto molto recente che sicuramente negli anni 80 70 60 era molto meno all'attenzione no ci stanno sicuramente facendo dei passi da gigante è chiaro che come vi dicevo le aree a rischio sono identificate le esposizioni sono ben definite le carte ci sono si sanno anche i fenomeni che si possono sviluppare più o meno a prescindere poi da eventi così violenti perché questi sono stati veramente pazzeschi quelli che abbiamo descritto prima e in questo in questo senso io non vado a dare un condono in una zona che sappiamo essere esposta questo è già una discriminante che non esiste i pai dice in una zona a rischio io ho già la mia casetta regolare non da condonare e lì posso fare le foronomie in un certo modo posso fare le strutture più rigide per resistere a eventuali frani di un certo tipo e posso cambiare il tetto posso farla bene ma non posso demolirla e ricostruirla oppure posso ampliarla del 10 per cento quindi è già molto normato bisogna avere la razionalità il rapporto dello stato è sicuramente importante perché è lo stato che è il governo del del nostro territorio e chiaramente qua l'ho vissuto sulla persona io ho visto ho iniziato appunto vi dicevo nel 98 io avevo iniziato con la legge sarno a fare le perimetrazioni del pai e ho iniziato in quegli anni dove c'era il genio civile che era regionale era una struttura molto operativa sul territorio e vedevi vedevi gli effetti immediati sul territorio perché veniva la frana facevi la sua urgenza chiamavi la ruspa dopo un'ora arrivava nel 2002 c'è stata la legge Bassanini che ha disgregato ahimè le competenze quindi quelle che erano le competenze un po centrali sono state tutte smembrate e smembrate nel territorio e questo è stato per me devastante perché è stato un cambio di passo che non ha portato a quella che era la l'operatività e l'effettiva gestione ottimale che c'era prima le strade che erano passate appunto dall'anas poi le province io non voglio togliere niente le province ma è un altro ente non ha di sicuro la potenzialità che può avere un ente ministeriale come adanas le risorse sono sempre meno le energie sono sempre meno io le tre valli umbre la visso e uscita tutte quelle strade lì soprattutto le tre valli umbre una volta ho fatto un rilievo che la strada era chiusa d'inverno e mi sono fermato sopra un tratto di sarà stato di 30 50 metri che aveva un sembrava un quadro di asfalti aveva una pezza nera una pezza rossa una pezza arancione per dire che il passaggio gestionale e manutentivo è andato a perdersi dopo la bassanini quindi un ritorno a quello che era questa gestione sicuramente importante la regione secondo me è un ente importante perché è un ente grosso che si interfaccia poi direttamente come è successo appunto con vaia con la protezione civile e ha sicuramente permesso interventi di non poco conto in termini di quella che era la regia no con deroghe e operatività che appunto mi sembrava di essere tornato vent'anni fa cosa che si era veramente ormai che si era ormai persa e le province anche sono un ente importanti ma devono essere messe nelle condizioni di poter operare quindi sicuramente è un aspetto un aspetto delicato dal punto di vista amministrativo quindi sicuramente a centrare nuovamente quelle che sono le competenze è fondamentale non so se ti ho risposto forse mi sono perso sì assolutamente sì no io volevo solo dire insomma nella mia esperienza praticamente 40 anni di questo tipo di lavori nei primi venti si è lavorato esclusivamente come rattoppo di situazioni di emergenza negli ultimi vent'anni si sta facendo anche della prevenzione appunto delle opere dove non è mai successo niente e molta gente diceva qui non è mai successo niente sì che ti ricordi tu questo non significa che quello che possa che che non possa succedere che non possa succedere probabilmente anche agli abitanti di pompei prima dell'eruzione che se tu gli avessi chiesto avrebbero detto ma qui non è mai successo niente perché in effetti nessuno di loro se lo ricordava se lo ricordava forse l'eruzione esplosiva precedente credo che era quattro o cinquecento anni prima però e poi c'è stata insomma ecco quindi io chiederei al numeroso pubblico che c'è questa sera di sviluppare delle domande ecco una precisazione ad esempio come dicevo le strade la bassinini le aveva smembrate no nella realtà montana nostra firuri trentino hanno creato poi delle strutture operative ad hoc veneto strade filistrade che sono delle partecipate pubbliche e sicuramente lì l'operatività non si è persa perché assolutamente c'è stato una manutenzione un'attenzione importante quindi le regioni province si sono messe insieme per creare queste macchine che lavoravano in modo efficace che hanno lavorato e lavorano in modo efficace nelle altre realtà ti dico giù quel quando l'ho visto quelle strade provinciali devastate solo dal punto di vista manutentivo dell'asfalto dei protezioni laterali eccetera ho detto non sono neanche percorribili queste strade ma non possiamo neanche fare una colpa perché era un ente che non aveva sicuramente la possibilità che alla fine è sempre economica della disponibilità amministrativa economica sì ti do atto di questa cosa per quando le strade umbre sono passate dall'anas alla regione della provincia praticamente per 30 anni non hanno fatto nessun intervento manutentivo e questo te lo dico perché le percorro sono degli ottimi delle ottime strade per allenare in bicicletta quelli che vogliono poi fare la parigi rubè quindi andare a correre sul pavè perché qui c'è il pavè sull'asfalto quindi va benissimo per quello però certo la l'unica cosa che sono riusciti a fare negli ultimi tempi da noi è mettere un limite a 5 km orari per le biciclette la strada era ridotta in una strada in uno stato pietoso e c'erano stati degli eventi che avevano dato origine a dei contenziosi quindi hanno messo il cartello 5 km orari limite massimo per le biciclette però non è che sia proprio l'elemento l'intervento migliore per salvaguardare la salute e la vita di tutti anche perché ti passa il maratone di te ti supera c'è c'è Antonio che vorrebbe fare una domanda Antonio Manfredi ciao buonasera io è stato parlato Luca ha parlato molto di frane in montagna mentre Mario ha fatto un accenno all'abusivismo edilizio io vorrei dire un episodio è successo qua a Crotone Crotone non si trova sulle Dolomiti si trova in palmare in Calabria è successo un episodio una trentina di anni fa due palazzine di un complesso di edilizia di case popolari di una cooperativa sono state costruite su una falda acquifera e dopo qualche anno sono dovute sono state buttate giù e ricostruite con un criterio diverso la mia domanda è questa come è possibile che venga rilasciata una licenza edilizia senza un parere di un geologo ma diciamo se era una cosa di trent'anni fa anche in questi trent'anni sono cambiate tante cose e sicuramente gli ultimi poi anni 2000 dal 2008 al 2000 adesso si sono sviluppati anche dei criteri di progettazione molto più adeguati le norme tecniche sulle costruzioni del 2018 appunto le ultime danno e dettano tutte quelle linee in modo anche chiaro e concreto quelle linee da seguire per una corretta progettazione nella parte si dice proprio della modellazione geologica geotecnica il terreno è chiaro che la figura adesso del geologo è determinante per cercare di capire appunto il contesto che hai come terreni che possono cedere possono avere di quei fazioni l'acqua le falle e quindi fisicamente sta cambiando un po' l'approccio culturale è un percorso culturale in tutti i sensi che gli ultimi dagli ultimi venti vent'anni dai si sta piano piano sviluppando con una compartecipazione tra le varie professionalità quindi geologo con ingegnere con l'architetto con con i periti che hanno come fine appunto la dovrebbero avere come fine la migliore riuscita dell'opera grazie prego condizionale posso esprimere più che una domanda una così un senso un po di disconcerto e cercare di capire che cosa cosa è successo se avete informazione di una frana che è avvenuta proprio qui dalle mie parti io abito a lecco e la nuova strada lecco ballabio che è una strada costruita credono una quindicina di anni fa quindi sicuramente con tutte le caratteristiche che oggi possono essere messe in opera a non so se avete letto perché c'è stato anche abbastanza un interesse abbastanza nazionale un miracolo spaventosa nel senso che sono caduti dei massi giganteschi probabilmente si sono portati giù tutti i sistemi di protezione che erano stati pensati e hanno anche abbattuto un muro di contenimento due persone che erano in un furgoncino sono stati schiacciati ma il furgoncino è sghiacciato ma fortunatamente sono usciti dal finestrino che era rimasto ancora libero e si sono salvati tutto questo per dire che probabilmente l'osservazione che faceva luca sul fatto che ci sono comunque situazioni soprattutto dove queste zone dove effettivamente quando uno conosce l'eco ci sono delle pareti verticali che 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 la contornano che sono abbastanza spaventose probabilmente qualcosa cioè più o meno può succedere comunque non so se qualcuno di voi ha qualche informazione di più su questa su questo evento mi farebbe piacere conoscere perché tra l'altro è qualcosa che ha sconvolto anche tutta la viabilità della zona in una maniera impressionante proprio ora che si erano messi in moto un po' anche impianti di risalita della zona non so tu mario conosci sapevo cosa di questo fatto no nel caso specifico no genericamente posso anticipare che probabilmente luca quando diceva tutti gli interventi che si fanno sono interventi di mitigazione del rischio non certo che 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 coprono completamente e che che assicurano la la sicurezza e molto spesso il problema sono i budget quando c'è la volontà politica di aprire a tutti i costi una strada non sempre diciamo le progettazioni di le valutazioni diciamo dei rischi a cui sottoposta quella strada sono l'elemento principale diciamo per scongiurare eventualmente la costruzione la maggior parte delle strade che viaggiano intorno comunque a il lago di lecco lassù anche sulla zona per andare verso verso sondrio moltissime sono in l'idea perché non è possibile appunto garantire la circolazione sotto quel sotto quel tipo di pareti dopodiché io mi alzito e faccio parlare luca perché probabilmente sa qualcosa di più sì io ho sentito perché lì a gestione hanno chiamato il geologo del compartimento cioè ci siamo messaggiati scusa è sicuramente un evento importantissimo di entità di volumi di 20 30 metri cubi singoli quindi incredibili è assolutamente impersonante il miracolo per i due passeggeri della macchina perché il sasso ha detto si è proprio appoggiato sul paratesta di lato guida quindi dieci centimetri più là spezzava su tutto e sicuramente è un evento importante che in ambienti di montagna di questo tipo con pareti poi mi ha anche detto che a monte proprio la parete è messa abbastanza male insomma no quindi molto disgregata molto disarticolata che non puoi neanche andare quasi consolidare perché dovresti fare opere da titani e quindi in ambienti di questo tipo ahimè sono condizioni che posso possono succedere di tutte le strade di montagna che sono sottese no a questi paretoni che possono essere anche alti 200 300 metri chi dice che questo ammasso roccioso dietro non abbia delle fessure delle fratture che non vedi e che non vai a sistemare perché questo dietro fratturato che sta magari a 300 metri di altezza non vai a sistemarlo e chi dice che si sviluppa una frana di quel tipo le opere che ci sono che magari erano di qualche anno fa e quindi di un certo tipo o che magari sono anche nuove ma se vieni su un blocco da 20 metri cubi che come un furgone inizia a assumere energie importanti che difficilmente vengono gestiti gestite no quindi è proprio un discorso di sapere che sei assolutamente in una condizione di esposizione in ambito stradale e questa questi approcci sono gestiti dal famoso articolo 31 no del codice della strada che dice che l'ente gestore della strada non è tenuto ad andare a intervenire fino in cima alla montagna nel senso deve intervenire nella sua fascia di utenza e in teoria dovrebbe essere responsabilità del proprietario dei terreni da monte ma molto spesso i proprietari dei terreni che sono magari in demanio o i comuni su in ambienti di alta quota no quindi è un po un cane che si morde la cola è vero che sono eventi che possono succedere perché io nel 2006 avevo seguito la frana di arenzano a genova che aveva appena c'era il giro del ciclistico lì quello da sanremo milano sanremo e l'avevano spostato fra l'autostrada proprio perché si era chiusa l'aurelia e lì erano venuti giù 6.000 metri cubi in un posto che non era bellissimo però nessuno avrebbe pensato chiaramente una cosa così e l'aurelia chiusa per un bel po con tutti i disagi chiaramente in un ambiente già difficile che come quello genovese quindi hai una montagna hai vastità enormità sono cose che che possono succedere volevo dire una cosa in qualche maniera rispondendo ad antonio prima è vero che il crotone sta sul mare ma l'immediato entroterra è comunque montano perché sì non ci sono non ci sono le alpi ma ci sono comunque dei pendi importanti con degli con delle inclinazioni importanti quindi tutta l'italia è praticamente soggetta a rischio di frane non escluderei neanche la pianura padana perché anche lì c'è il problema degli alvei e delle aree golenali diciamo dove per per anni sono state anche lì costruite delle cose in maniera in contraia diciamo ad ogni regola ad ogni buonsenso diciamo così quindi sì noi dovremmo avere la capacità di capire ma questo ce l'abbiamo eh di far capire diciamo che eh il nostro il nostro intervento è non è non dico poca cosa ma non è risolutivo non può mai essere risolutivo nei confronti della dell'entità degli avvenimenti che possono avvenire appunto succedere e sono fortemente convinto che lasciare la delle competenze eh spezzettandole tra tanti singoli è un po' un una maniera di di lavarsi nelle mani eh perché sì la competenza dell'anas vanno sono solo relative alla sede stradale e tutto quello che che le paredi rocciose che sono lontane dovrebbero essere sistemate dagli enti gestori e quindi dal genio civile o quant'altro ma stiamo sempre parlando di stato quindi eh la 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 realtà dovrebbe essere questa cioè che è lo stato che deve occuparsi della della sistemazione delle cose di dire se un'opera si può è logico costruirla o non costruirla in una determinata area così come deve dire se si può sanare un'opera diciamo abusiva in una determinata area oppure no e siamo pieni di queste situazioni insomma anche al di là del discorso delle frane eh se pensiamo e se parliamo a se pensiamo alla situazione del Vesuvio con con il fatto che comunque è un'attività esplosiva che probabilmente per altri duecento anni non succederà ma non abbiamo nessuna certezza per poter dire una cosa del genere e sotto ci sono un paio di milioni di persone che abitano anche tutti i pendi del Vesuvio quindi anche lì eh prima o poi succederà e poi non possiamo gridare alla natura matrigna perché insomma abbiamo una memoria storica a questo punto di quello che è successo e che quindi può risuccedere no? Posso fare una domanda? Chiaramente sì c'era anche Giancarlo calzato la mano ma per dovere di cavalleria ovviamente. Allora ehm nella nel concetto di prevenzione quanta importanza ha la cura della vegetazione eh per esempio ricordo che a Livorno nel settembre del duemiladiciassette eh ci fu un incendio dei monti livornesi i cosiddetti monti livornesi sono poi colline e dopo l'incendio l'anno dopo venuta meno la vegetazione eh a seguito di forti piogge venne su venne su tantissima acqua che provocò quelle le sondamento dei torrenti poi eh poi morti all'alluvione qui una cosa diciamo forte e eh era importante la cura del vegetazione del verde e chi dovrebbe pensare a questo? Una prima cosa. Altro esempio è quello di un per esempio all'isola del Giglio per fare delle costruzioni più o meno abusive ehm un'antichissima strada romana ben fatta con le pietre con i con gli interimenti canali di scolo per l'acqua fu fu distrutta perché non permetteva il passaggio di alcune macchine e subito dopo a seguito delle piogge il fango detriti arrivarono giù al mare praticamente provocando fortunatamente non morti ma notevolissimi danni. Non so se ho che ho detto con chiarezza la mia domanda ecco. Sì la vegetazione è importante però è un po' un'arma a doppio taglio nel senso che ormai la vegetazione è eh legata all'abbandono del territorio perché in ambienti soprattutto montani i eh il fatto di avere questi boschi che ormai entrano nelle case perché tu passi una valle ai boschi che ormai ti scendono che coprono le pareti eccetera eh sono un effetto di riconquista del territorio del coso ma un segno della totale perdita di contatto dell'uomo con il territorio no? E quindi molto spesso questa cosa crea un disordine in in tantissimi contesti fino a che il bosco però non ha trovato un suo equilibrio una sua natura in cui ritorna anche a gestire in modo equilibrato quelle che sono le percolazioni dell'acqua e gli usciendamenti eccetera ormai tanti boschi sono impenetrabili perché hanno eh schianti alberi apparati eh di le piante con le spine e le casse e quelle cose lì che non ti permettono nemmeno più di entrarci dentro se devi andare a controllare qualcosa e tutto quella che era la manutenzione capillare dell'uomo che era gestita dal fatto che l'uomo viveva del territorio perché l'uomo in qualsiasi posto dove si è andato eh per esempio mi ricordo sopra Cannobio sopra la statale 34 andando su per i pendii completamente abbandonati c'erano eh dei terrazzamenti dei delle opere dei vecchi casolari che erano mostruosamente belli che sarebbero da riprendere ma lì il territorio ormai era in disequilibrio perché c'erano frane localizzate abbandoni le piante che si rovesciavano quindi è un po' un'arma un'arma doppio a doppio taglio eh importante sarebbe anche dal punto di vista amministrativo ristimolare eh il rivivere il territorio no? Quindi eh che forse si tornerà perché anche ad esempio qua da noi sono tantissimi che stanno tornando a fare legna come del resto si faceva una volta e eh quindi anche con incentivi per i giovani per eh di rifrequentazione per eh la rivivitalizzazione e la gestione del territorio. Io ho seguito frane cos'era qualche anno fa c'è stata refrontolo anche là con quattro morti un'alluvione in una notte pazzesca con eh i soliti cinquanta settanta millimetri in un'ora che aveva concentrato tutte le acque eh eh nel torrente che appunto dove c'era questa sagra e ci sono stati ai miei confronti e lì io poi gli giorni successivi ho fatto tutti i censimenti dei dissesti delle frane che si erano sviluppate eccetera lì è un territorio di vigneti no? E la maggior parte delle frane era localizzata nei boschi abbandonati dove ormai le acque erano disperse e non avevano più nessuna nessun controllo e chiaramente eh c'è stato il coso. Il vigneto è qua vabbè poi ci sono aspetti gestionali ambientali di tipo eh sostanze che usano eccetera però un vigneto è una frequentazione nel territorio che ti permette di regimare, controllare e e dare anche il famoso si chiama tempo di corrivazione. L'acqua quando cade in cima alla montagna ci mette un tempo arrivare giù al fondo valle. Se io ho delle strutture terrazzate come quei terrazzi che vi dicevo Cannobbio, se ho questi vigneti che sono gradonati eccetera quella gocciolina ci metterà meno ad arrivare, ci metterà più tempo scusate e quindi avrai una concentrazione diluita nel tempo di acqua con minori effetti. Quindi è un aspetto delicato che però va va assolutamente razionalizzato con l'equilibrio. Prima di dare la parola a Giancarlo volevo dire una cosa. Molte volte ci sono delle aree sottoposte a vincoli di parco e robe del genere che sono dichiarate di interesse assoluto e quindi sono zone vincolate dove non puoi fare nulla, nessun tipo di manutenzione. E questo andrebbe benissimo se a valle di queste di queste aree non ci fossero non ci fosse una frequentazione umana perché naturalmente, come dicevi tu, qualunque area boscata dopo un po' di anni ha un suo equilibrio indipendentemente da quello che succede. Ma tu non puoi all'improvviso far diventare un'area non più frequentabile dove non puoi fare neanche la manutenzione se poi a valle ci sono delle delle infrastrutture di un qualche tipo c'è una frequentazione umana perché se ci siamo purtroppo cioè lì o impedisci la frequentazione umana oppure gli garantisci anche un qualcuno una sopravvivenza ecco. Lo stesso tipo dei terrazzamenti che dicevi tu esistono sia nella zona, beh un po' da tutta Italia, ma ne ho visti molti nella zona di Scilla dove fino a vent'anni fa coltivavano agrumi e dappertutto e tutto era perfettamente tenuto e quindi il ruscellamento come dici tu arrivava a valle ma arrivava a valle con tempi molto diluiti, adesso è tutto abbandonato, il bosco ha ripreso tutto, ci sono delle piccole frane tenute su da alberi caduti che marciscono e quando c'è una classica situazione di piovosità appena appena eccezionale si creano delle colate fluide che arrivano a valle e fanno più o meno disastri. Nelle Cinque Terre è lo stesso discorso, era tutto anche lì coltivato a terrazzamenti e l'abbandono, la coltivazione presuppone una manutenzione del territorio perché avevano tutti gli interessi a farlo perché lì coltivavano. Era la vita. Forse ecco in quelle aree pagare qualche d'uno perché rifaccia la coltivazione ma non tanto perché deve guadagnare dalla coltivazione, per mantenere il territorio in uno stato di controllo diciamo. Giancarlo volevi fare una domanda mi sembra, vero? Sì sì, una piccola considerazione nel senso che mi sembra è estremamente interessante cogliere la corrispondenza nell'approccio che c'è sulle questioni della gestione del territorio dell'idrogeologia con altri sistemi nel senso che c'è bisogno di un approccio razionale. L'approccio razionale significa che bisogna avere un atteggiamento dogmatico per cui un principio va affermato a qualunque costo. tu Mario citavi all'inizio il principio di sussidiarietà e questo è un principio che fa parte della dottrina sociale cattolica che è stato ripreso per molti versi dalla devolution o altre cose simili per cui per principio la comunità locale è sempre meglio di una comunità più ampia. Oppure il privato, profit o non profit, è sempre meglio del pubblico perché lo statale per definizione è burocratico, distante, non capisce e così via. In realtà c'è bisogno di esaminare razionalmente perché alcune cose vanno gestite assolutamente a livello locale e altre no. nella pandemia si è visto che se ci fosse stata un po' più di centralizzazione probabilmente la si sarebbe gestita meglio e forse, per esempio, anche qui ne parlava Mario prima, lasciare tutto o un amministratore locale che per essere rieletto dipende dal voto di quelli che magari gli dicono se mi fai costruire, se non mi rompi le scatole nel fare questa o quell'opera io ti voto, altrimenti no, non è la soluzione più razionale. Cioè ogni atteggiamento razionale vuol dire ragionare in termini sistemi, di integrare il particolare con il generale, non di avere un principio che va attuato meccanicamente anche quando è chiaramente inadeguato. In questo io ci vedo, mi sembra di capire che sia nell'impostazione anche di Luca, il fatto che nell'amministrare il territorio c'è bisogno di principi, di tecniche, di un'amministrazione, di un sistema che vale per gestire l'assistenza, la scuola, la sanità e anche il territorio. Poi chiaramente non bastano le leggi, c'è bisogno appunto di una cultura che sia diffusa e della capacità di limitare gli abusi, questa propensione italiana da girare sempre le norme, l'individualismo nei piccoli interessi, le corporazioni e così via. Però appunto se cresce la consapevolezza di una cultura che vede come sistema il paese, sia nel territorio che nei servizi, nella scuola e così via, è tutto di guadagnato per tutti noi. Ecco, questa penso che sia un atteggiamento politico nel senso ampio e nobile del termine che consente di tenere insieme la gestione del territorio con quello degli altri servizi e in generale dello Stato, della comunità nazionale. Sì, direi che questa tua atteggerata possiamo anche usarla come riassunto di quello che bisognerebbe fare. Faccio una piccola... mi hai fatto venire in mente che parecchi anni fa, con il discorso del decentramento e quindi delle competenze spezzettate, in una vallata del centro-sud mi sembra, ma non sud-sud, era centro-sud, due enti differenti appaltarono una diga e un viadotto che attraversava la valle. Alla fine il viadotto si è trovato più basso del livello di un vaso previsto dalla diga. Quindi, che è assurdo, però se non c'è una centralità appunto che gestisce un po' tutto, possono succedere anche queste cose che sembrano eclatanti, ma che però sono successe. Quindi, insomma, è evidente che il sistema ha delle falle che vanno tappate. L'importanza poi della conoscenza del territorio è fondamentale, ma per questo ci sono appunto i tecnici come può essere Luca, come possono essere tanti altri, ma la gestione completa sono anch'io convinto che debba essere centralizzata, perché se no, abbiamo visto quello che succede, diciamo così. Quindi credo che sia logico cambiare strada, che è quello che si sta facendo, però come tutte le cose in Italia sono abbastanza lente. Sicuramente la strada che abbiamo imboccato è forse giusta, però serve ancora parecchio per far funzionare al meglio le cose. C'è qualcuno altro che vuole intervenire? Luca, vuoi dire qualche altra cosa? È stato un bello scambio di pareri, di confronto, quindi sicuramente grazie.